Anche con Isico, danno 2.99, solo a giugno. Salvo approvazione F.C. e B.S.O.N.Auto, Ford Partner per Vicenza e Provincia. Canale Italia. Grazie a tutti. Oh, poverina, sei combinata un po' Manuccio. Beh, acqua ne hai. E io devo andare, questa sera c'è un bel concerto di musica napoletana. Ti lascio la luce accesa o spenta? Spenta. Torno presto. Torno presto. Torno presto. Torno presto. Sì, sì, sì. Buonasera, buonasera, ho solo mezz'ora per una pizza, te ne faccio? Sicuramente, se si da dove le piace, cosa le porto? Una porcini e specche e una birra rossa. Il primo polo della bellezza totale e centro di magrimento Freelife. Centro specializzato nel benessere del corpo e della mente con metodi innovativi e personalizzati. In vita. I negozi Zenit, zona Oceania, Mestri, Rotonda O. Info 348 99 68 350. Muove suoi denti e emozioni. Grazie. 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 Mi commuovo con niente. Glielo lavo e glielo riporto. non fa niente. Sfiguri. Le puoi tenere. Non ci penso nemmeno. Belle le canzoni napoletane. Mi ha regalato il biglietto in ufficio. Non ci capisco niente. Bella la musica. Io mi chiamo Anna. Vengo anch'io di là. Grazie. Grazie.